Ciao ragazzi, eccoci qua, bentornati a tutti, dopo tre mesi di inattività, finalmente ho ripreso la bicicletta è stata traumatica perché bruciavano le gambe in maniera impressionante e le braccia facevano male i cani forse le dà, forse le dà, forse le dà la new entry al negozio, Pierfrancesco ciao a tutti ragazzi, qualcosa che almeno, va mi presento, sono Pierfrancesco, sono la new entry al negozio nonché personal trainer, anche preparatore atletico, esatto preparatore atletico, sì, vabbè vediamo i consigli che ci darà in questi mesi anche per quanto riguarda la preparazione perché, come no, le mani, per chi fa enduro, braccia molto importante la preparazione, la schiena e tutto quello che c'è da fare faremo anche qualche esempio, qualche video veloce qualche esecuzione, qualche tipologia di schede da seguire durante la settimana anche senza attrezzatura, con degli elastici, quindi anche programmi da portare avanti a casa facilmente per due o tre volte a settimana, spiegherò qualche esercizio bene bene, facciamo così, oggi è il primo video di una lunga serie e ci salutiamo qui e ci vediamo ad America alla prossima ragazzi comunque io assumerei un posteggiatore comunque arrivi lì, vi lascia i chiavi, fa tutto noi oggi abbiamo giocato a teatrice oggi sei male eh sì, cioè le macchine in tante oggi giro perfetto con tutti i planchi in italiano è importante ma io vado giù per dopo è mica per primo muscerini che c'è ah tu hai la mascherina? io non vengo qui, ho fatto pranzo, si è una pietra, no qualche curva c'è ma è quasi tutta dritta quando volete ragazzi partite vieni qui vai non lo so tre mesi vediamo come siamo messi veramente malissimo aiaiaia non sto parlando dei ginocchi dai e sopra i problemi dai vai da team e aggiunta team le mani aiaiaia Grazie a tutti. 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 Qua, 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 qua. Qua è? Qua è? Qua è? Qua, qua, qua? Qua, qua? no? No 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 Si No No Bravo No 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 Now it was quite fast to tell you Probably a capriole Can we stop after? Yes Can we stop there? Let's go 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 Grazie. 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 Grazie.